Lingo, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo è partito con la retromarcia e non ha ottenuto i risultati minimi sperati, ma la strada è ancora tutta da scoprire. Cerchiamo di capire intanto quando va in onda, dove vederlo in tv, l'orario, quante puntate sono previste, gli ascolti tv della prima puntata e come funziona. Lingo, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo è partito con la retromarcia e non ha ottenuto i risultati minimi sperati, ma la strada è ancora tutta da scoprire. Cerchiamo di capire intanto quando va in onda, dove vederlo in tv, l'orario, quante puntate sono previste, gli ascolti tv della prima puntata e come funziona. Leggi anche, Caterina Balivo ha avuto il cancro? Le parole sulla malattia, foto, Lingo, nuovo programma Caterina Balivo, quando va in onda? Il nuovo programma di Caterina Balivo, Lingo, va in onda ogni giorno dal lunedì al sabato, dove vederlo in tv. Lingo, andrà in onda sulla 7 nella fascia preserale. A che ora inizia? Orario l'appuntamento con il nuovo programma di Caterina Balivo, Lingo, è previsto nella fascia preserale, a partire dalle 18 e 50. Come funziona? Il programma di Caterina Balivo, Lingo, parole in gioco, è un gioco composto da tre coppie di concorrenti che si sfidano nell'indovinare lettere e parole della lingua italiana. Ogni sera ci sarà una coppia vincente che sarà poi considerata campione, che tornerà nella puntata successiva. Ascolti TV Lingo, quanto ha fatto la prima puntata? Il debutto di Caterina Balivo sulla 7 con Lingo ha raccolto 138 000 spettatori, share del 1,11%. Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito a Lingo, il nuovo programma di Caterina Balivo, quando va in onda, quando inizia, dove vederlo in tv, l'orario, come funziona, chi sono i partecipanti gli ascolti tv, e quante puntate sono previste.